Bentornati ragazzi sul canale di Juki Next Gen, siamo tornati sulla Ramsey Death Challenge Allora ragazzi siamo giunti al quinto episodio, nello scorso episodio se vi ricordate Ramsey aveva effettuato una kill nel primo tempo supplementare della partita quindi uccidendo un altro suo compagno Ragazzi questa volta a fare le spese è stato Victor Ibarbo, infatti ho cambiato la D mettendo questo qui che si chiama Berguis che sinceramente non conosco, non so neanche questo chi sia, dunque ho visto che è della stessa squadra, dell'esterno sinistro giurato Quindi ragazzi oggi giocheremo con questa formazione qui che vedete piano piano si sta depotenziando, mano a mano che Ramsey killa Quindi vediamo subito quale sarà il mio prossimo avversario della Ramsey Death Challenge Ok ragazzi allora questa è la formazione del mio prossimo avversario, come vedete intesa 100, valutazione 83 Quindi una squadra buona, è una liga, spagnola vedete c'è Jackson Martinez in avanti, Ferguli Quello dovrebbe essere Mathieu, Mascherano, Felipe Luis, Carvajal e non ho finito di vedere il resto della formazione Comunque una squadra forte, quindi Ramsey oggi spero che riuscirà a killare perché insomma potrebbe avere qualche problemino Comunque vediamo subito cosa accadrà in questa partita Ramsey provate là dentro, ancora lui Ramsey, Ramsey al tiro, Ramsey! Deve intervenire il portiere ragazzi, Ramsey! Attenzione qua è solo E c'è l'autorete No ragazzi era fuori gioco, era fuori gioco, ci siamo salvati Attenzione qua ancora se ne va, è solo Ancora il tiro, Mignolè vola e para Lotta, la vince con Mascherano Ramsey, Ramsey prova il tiro, fuori di pochissimo Ancora Ramsey ragazzi, pericolosissimo Ancora qua, ha sbagliato Se ne va Ramsey, Ramsey al tiro, il gol Il gol di Aaron Ramsey E quindi ragazzi prossima partita già con un giocatore in meno chillato appena in questo momento Proprio ora da Ramsey Mignolè blocca, non fa andare neanche in angolo, grande Mignolè Barca lì ancora, là da dentro, verso Aaron Ramsey Non ci arriva il difensore, ancora Ramsey, Ramsey! Controllo di troppo, oppure le avevo già impostato il tiro ragazzi Finisce il primo tempo ragazzi, per ora la partita la sta dicendo proprio lui Aaron Ramsey, con la sua prima kill del giorno Vediamo se riuscirà a fare altri kill comunque Oggi lo vedo bello ispirato a Ramsey Ramsey, infatti passa Ramsey il tiro! Deve ancora intervenire il portiere, ragazzi cosa ha fatto Ramsey? Grandi skill e poi... Attenzione qua! Era quasi andato vicino a recuperare palla, avrebbe fatto facilmente la sua seconda kill L'attenzione è che se ne va lui e c'è il pareggio Non ha fatto quasi niente fino a mo' l'avversario Riuscito a pareggiare Ma era ancora fuori gioco ragazzi Era ancora fuori gioco Ramsey se ne va, se ne va Ramsey, se ne va Ramsey, se ne va Ramsey Ramsey, Ramsey! Parata! E poi c'è il gol di Barkley Ma Ramsey aveva quasi fatto la seconda kill Ovviamente questa qui non cambia nulla perché è di Barkley Però c'è lo zampino di Aaron Ramsey ragazzi Ha fatto una cosa stupenda qua Ramsey Veramente partitone di Ramsey Ora parte la sua challenge partitone di Aaron Ramsey Guardate qui Uno, due, qui finta Non si sposta quindi il difensore teme la finca Prova il tiro, nulla da fare E poi fa segnare per Barkley Qua ancora nulla da fare però Perdiamo palla Attenzione che sta provando lui È solo Mignoletro Interviene Soltano, non era fuori gioco Ah no, era fuori gioco anche questa volta Blind dentro Ramsey Ramsey ancora ha la forza di scattare Ramsey allora Guardatelo Ramsey Guardate Ramsey Numero di Ramsey Il tiro, il miracolo Qui ce ne andiamo ancora noi Sempre qui Gestiamo palla Benissimo Qui Barkley Uno, due, Ramsey Barkley Ramsey Qua non è dentro Qui trova Ah, era stanco Kolarov Che ha fatto veramente avanti e dietro per il campo in tutta la partita Vediamo di nuovo lo schema che avevo già provato ragazzi Nella rotta di Giovanni Con il tiro Che questo è una scorsa Poi il tiro qua di Terry Fuori gioco No, era Kolarov Non Terry Qua recuperiamo palla Dentro Ramsey Al tiro Il gol Ecco qua ragazzi Ramsey Al novantesimo Ha messo a segno una doppietta Quindi doppia kill Ed è finita anche la partita ragazzi Ramsey allo scadere Ha messo a segno Il secondo gol Ok ragazzi Allora nel prossimo episodio Avremo due giocatori in meno Quindi Ramsey sta iniziando a killare A ripetizione Ok ragazzi Come sempre Se l'episodio vi è piaciuto Vi invito a lasciare un like A commentare A condividere Mi raccomando Sostenete questa serie Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Ditolo anche ai vostri amici Qui d'AngeloNero83 Tutto Ci vediamo al prossimo episodio Della Ramsey Death Challenge Bella Ciao